Buongiorno, bentrovati, giovedì 16 gennaio 2020, il nostro consueto appuntamento di prima mattina con la nostra rassegna stampa, mattino 6 che si apre come sempre con l'apertura dei quotidiani abruzzesi, le prime pagine dei giornali che troverete oggi in Edicola, iniziamo con il centro, l'edizione di Pescara, ovviamente il titolo di apertura non può che riguardare la A14, la chiusura, i tir e gli effetti che ci sono sulla strada statale 16, effetti che stanno creando sicuramente dei problemi, vedete pesanti effetti sulla statale e poi ci sono i primi dati raccolti dall'Arta. Vedete poi a centro pagina Pescara ha revocato la concessione dopo 4 anni, il comune sfratta la ruota panoramica della Riviera Sud, parliamo anche di sicurezza stradale, strade dei colli in particolare via i controlli con l'autovelox e poi il conservatorio di Pescara Luisa D'Annunzio ha un nuovo presidente, si tratta di Maurizio Di Nicola che è stato presentato ieri, prende il posto dopo la fine del mandato di Enzo Fimiani. Vediamo anche la cronaca che ci porta nell'area vestina, Dramma Penne muore di colpo mentre Albar aveva 64 anni e poi di nuovo a Pescara, sfiorata la tragedia nella mattinata di ieri, Bimbo e Nonna travolti sul marciapiede da un'auto che ha imboccato contro mano via Rigopiano un probabile malore per il conducente della vettura. Fortunatamente Bimbo e Nonna sono rimasti feriti in maniera non grave. Vediamo nella parte alta della pagina bonus fiscale 2020, spese sanitarie, le regole per ottenere le detrazioni. Andiamo invece in basso per parlare prima dello scatto spettacolare dallo spazio dell'astronauta parmitano, Maiella una foto dallo spazio pensando che sia il Gran Sasso. E poi il calciomercato del Pescara, Pescara sempre alla ricerca di una punta, in questo balletto continuo di nomi quotidiani sono in risalita le quotazioni di Asenzio per Melchiorri, la pista è in salita. Vediamo la prima pagina del centro edizione di Chieti, Lanciano-Basto, parliamo delle elezioni amministrative di Chieti, parla il candidato della Lega di Stefano che dice non temo le primarie, si accende la corsa a sindaco, scontro sulla proposta di Forza Italia. E poi a 14 vietata i tir, l'effetto smog piomba sulla statale, ne abbiamo parlato qualche istante fa. Torniamo a Chieti, cittadinanze false, inchiesta con otto indagati, Lanciano, Pupillo-Las, il laboratorio analisi, resti qui. Vediamo poi a vasto la cronaca, la cronaca giudiziaria, in questo caso maltratta la ex, stia lontano da lei, 1500 metri. E poi ancora cronaca cuoco travolto, 4 anni all'investitore, marocchino ubriaco condannato, i parenti della vittima, appena troppo bassa. Vediamo anche la pagina dello sport, il calcio di eccellenza con il Lanciano che si rialza grazie a Rodia e Gragnoli e vince la gara di campionato del turno infrasettimanale. Parleremo come sempre nell'ultima parte di questo appuntamento con lo sport. Vediamo anche la prima pagina del centro edizione di Teramo, siamo a Silvia, allarme smogo sull'Adriatica, ecco i primi dati dell'Arta sull'inquinamento dell'aria. E poi la protesta a Roma contro la ricostruzione lumaca, i sindaci del cratere pronti a riconsegnare le fasce. Ieri vi avevamo proposto un collegamento in diretta nel corso del nostro Tg con la nostra Tania Bonnici-Castelli da Roma proprio al termine di questo incontro, di questa riunione. Più tardi vedremo anche un servizio. Teramo d'Alberto vuole allargare la maggioranza. Vediamo poi, andiamo più nella parte centrale della pagina, parliamo di Prati di Tivo, il gestore degli impianti. Siamo pronti a riaprire. E poi andiamo a Giulianova, parla Lady Costantini, la moglie del sindaco di Giulianova, che dice l'ho spinto io a candidarsi. Parliamo anche di Sanità. Asni arriva oltre 100 assunzioni, l'azienda sanitaria Teramana fa partire concorsi per primari, medici e altre figure. Vediamo anche nella parte bassa della pagina il calcio con il Castelnuovo capolista che macina successi e gol ed è sempre più vicina la formazione Teramana al salto in Serie D. Vediamo la prima pagina del centro di L'Aquila-Vezzano sul Mona. Andiamo all'Aquila, Biondi pace in giunta, crisi finita, la Lega rientra nei ranghi dopo la rottura sul vuoto del bilancio. E poi Collelongo, Trasacco e Villa Vallelonga, stasera Collecuttore, si festeggia Sant'Antonio, le tradizioni nell'Aquilano sempre molto sentite. Ancora l'Aquila, isola ecologica sfrattata dal centro storico Avezzano, minaccia la ex con un coltello arrestato. E poi sul Mona, scuole chiuse, comune, investe, 21 milioni. Ancora l'Aquila, crollo con due vittime, nessun colpevole, l'Aquila, la Cassazione boccia il ricorso delle parti civili contro le assoluzioni in appello. E vediamo anche il calcio di promozione con l'Aquila Tris, prova di forza di Rosso Blu, che riescono a imporsi a Roseto. Dunque note positive per la formazione Rosso Blu. Vediamo anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero a 14 appello contro il blocco. Sul tavolo del GIP di Avellino la relazione di autostrade su cui ha dato il via libera il Ministero. Notizia dell'ultima ora che il GIP ha respinto la richiesta di riapertura ai tir del tratto autostradale attualmente interdetto ai mezzi pesanti. Poi vedete Astro Luca, Parmitano confonde i monti. Poi si scusa la foto dallo spazio delle nostre montagne. vediamo ancora questa notizia che abbiamo visto anche dal centro, Malora in auto in veste nonno e bambino. E poi Avezzano minaccia la ex con un coltello arrestato. E poi i sindaci del cratere, subito il commissario. Ieri l'incontro a Roma di cui parleremo più tardi. vediamo anche nella parte bassa della pagina Teramo, la città attira nuovi residenti. Dunque salgono i residenti della città di Teramo. Vediamo in alto Aquilani nel mondo, il sogno americano diventato realtà del drammaturgo Mario Fratti. Vedete il titolo qua in alto. E poi Giulianova, il sindaco Vara, il dasp urbano e si scatena una dura protesta. E poi il calcio di serie B, Pescara in pressing su Asensio, 21enne spagnolo del Genova. Vediamo anche la prima pagina del quotidiano, la città, la cronaca politica teramana in primo piano. Ad Alberto, sindaco di Teramo, costretto all'allargamento. Nella lettera aperta del sindaco, l'invito rivolto a Cavallari e di Dalmazio ad entrare in maggioranza. Vediamo poi in alto. I veterinari abruzzesi contestano la regione per la nomina all'istituto zooprofilattico. E poi Paolucci, ospedale nuovo, 94 milioni lasciati in sospeso. E poi pezzo pane, guerra alla mafia dei Pascoli. Vedete poi questa foto con questo titolo che si rifà ad un modo di dire tutto abruzzese. L'astronauta parmitano, fotografa dallo spazio alle nostre montagne e scambia il Gran Sasso con la Maiella. Poi Giulianova, mercato coperto, abbattuto entro il 2020. Abbiamo visto dunque i quotidiani abruzzesi relativamente alle prime pagine. Andiamo a vedere invece l'edicola nazionale. Partiamo dal Corriere della Sera. Si parla di politica nazionale in primo piano sul giornale milanese. Prescrizione l'Iterenzi PD. Italia viva vota con Forza Italia e accusa gli alleati inseguono il populismo grillino. Poi vediamo questo titolo che riguarda proprio la tragedia di Rigopiano di cui sabato ricorrerà il terzo anniversario. Vedete Rigopiano tre anni dopo il racconto di Francesca. Lui non ce l'ha fatta. Le mie 58 ore sotto la valanga tenendo la mano di Stefano. Vedete nella foto Francesca Bronzi con il fidanzato Stefano morto nella tragedia di Rigopiano il 18 gennaio del 2017. E sabato ci sarà il ricordo delle vittime. Ci sarà una cerimonia a Rigopiano a cui prenderà parte anche il ministro della giustizia. Buona fede. Vediamo quello che accade nel mondo. Stati Uniti e Cina firmano la tregua sul commercio. E poi più in basso, intervista con Larry Summer, Trump non mollerà, ora vuole colpire l'Unione Europea. Vediamo Repubblica. Francesco, io, Ratzinger e la terra da salvare. Incontro con il Papa. Predisposati dopo la solidarietà ricevuta da Benedetto, il pontefice ha archiviato la polemica. La Chiesa obbligata a diventare più moderna, stare con i poveri e i deboli, non con i ricchi e i forti. Vediamo, vedete la foto di Papa Bergoglio. E poi in basso usa Cina la pace fragile sui Dazi. E l'ultimo titolo, boom di chiusure, così la libreria diventa specie in estinzione. Tante le librerie che stanno chiudendo nel nostro paese. Vediamo il fatto quotidiano. Renzi, QQ, la prescrizione non c'è più, questo titolo con rima. Vota con le destre, la legge costa respinta. Questo è il titolo di apertura. Del fatto quotidiano. Vediamo il giornale. La Repubblica dell'odio, attacco a Salvini. Il quotidiano di Scalfari, scrive il giornale, vuole cancellare il leghista. Uno schiaffo alla democrazia. E poi vittoria, nuova regina Savoia, fa litigare i monarchici d'Italia. Scontro sulla riforma del diritto salico. Vediamo anche il mattino di Napoli. Il paradosso delle pensioni crescono più degli stipendi. I dati dell'Istat dal 2000 in porto medio su del 70%. Vediamo anche il messaggero nazionale. Conti correnti partono i controlli. Da gennaio verifica automatica. Chi richiede l'ISE per l'accesso a sgravi e sussidi. IRPEF, così il taglio delle tasse per quasi 3 milioni e mezzo di dipendenti. E poi strappo nel governo sulla prescrizione Renzi contro il PD, così Conte rischia. Abbiamo visto anche prima dei titoli degli altri quotidiani. E poi Dazi tra Stati Uniti e Cina e Treguarmata, i rischi per l'Italia. Vedete ancora un altro titolo. Siamo a Roma, Beffa Capitale, via le auto, sale lo smog. Vediamo anche il prossimo giornale, nell'edicola nazionale, che è il manifesto. Cetola qualunque, si parla in questo caso del plesso scolastico per i figli dell'alta borghesia, un altro per i figli del cedio metobasso e un terzo per i bambini stranieri più poveri a Roma. L'Istituto Comprensivo del Trionfale separa gli alunni per classi sociali. Vediamo questo il titolo del manifesto. E poi Conte Di Maio, pacifisti per forza sulla Libia, l'irrilevanza di Italia e Unione Europea. Questo è l'altro titolo, sempre del quotidiano, il manifesto. Vediamo Libero, i bambini di Bibiano non interessano al PD, coscienze sporche, scrive Libero. E poi Repubblica si prefigge di cancellare Matteo, l'odio democratico colpisce. La Lega, avevamo visto un titolo analogo, se non erro, dal quotidiano il giornale. Vediamo il sole 24 ore, caccia ai rendimenti, domanda record per il BTP a 30 anni per il buono del tesoro, richieste a oltre 47 miliardi rispetto ai 7 miliardi offerti. E poi anche sul sole 24 ore si parla di Dazi, Stati Uniti e Cina firmano l'intesa, ora l'Europa rischia delle ritorsioni. La stampa di Torino, Trump strappa la Cina alla prima tregua sui Dazi. E poi padre Geogor, tezzo Papa nel pasticcio sul celibato dei preti. C'è ancora polemica dopo quanto detto nei giorni scorsi, svolta di proprio Bergoglio una donna sottosegretario in Vaticano. Vediamo il prossimo quotidiano dell'edicola nazionale che il tempo, vacanze intelligenti, agenzia viaggi antimafia, il tour in America della Commissione che ha bloccato il voto sul Salvini, una gita di lusso in piena regola, scrive il tempo. E poi Renzi tradisce il PD sulla giustizia, vota con forza Italia. Vediamo la verità, Ratzinger si toglie il bavaglio, scontro finale in Vaticano, verso la soluzione nel caso della doppia firma creato per screditare Benedetto. E poi nelle carte l'orrore del sistema Bibiano, scrive il quotidiano La Verità, la chiusura delle indagini porta a nuovi capi di imputazione. Poi in basso il record dell'Inps senza pensione da 19 mesi. Il secolo XIX, autostrade pronte a giocare l'ultima carta, giù i pedaggi, oggi il piano industriale dell'amministratore delegato Tomasi, più controlli e manutenzioni. Poi vedete l'altro titolo, la foto, 20 miglia calano i controlli, respingimenti scesi del 20%. Lasciamo anche il quotidiano genovese per andare a vedere avvenire, fede negata e ferita, cristiani nel mirino, rapporto di Open Door, in 260 milioni nel mondo, perseguitati e discriminati, Corea del Nord, Afghanistan, Somalia, Libia e Pakistan, i paesi peggiori, quasi 3 mila le vittime. Stranieri, emersione allo studio, la maggioranza si divide sulla prescrizione, Italia Viva vota con l'opposizione. Lasciamo dunque con avvenire l'edicola nazionale, possiamo tornare al quotidiano Il Centro per ripartire da pagina 2, il blocco sull'A14, l'allarme per i dati dello smog, vedete il titolo, si parla proprio dei dati rilevati dalla centralina mobile dell'Arta, piazzata Silvi, sabato scorso, vedete i dati in questi specchietti, ma poi ne parlavamo anche qualche istante fa, la notizia dell'ultima ora, il GIP di Avellino dice no al dissequestro di 12 viadotti, questa è la notizia più importante e vedete poi un viadotto Cerrano, basta un dito per saccare il cemento dal pilone sul centro online, i fotogrammi vedete ripresi da un lettore, vi avevamo proposto anche ieri il servizio su questa situazione anche con le foto e i filmati proprio del pilone del Cerrano nel servizio andato in onda nel corso del nostro telegiornale, vedete poi ancora la maiella diventa spaziale, Parmitano la fotografa dalla navicella in orbita, ma la scambia per il Gran Sasso, vedete la foto anche dell'astronauta italiano Luca Parmitano, vediamo poi a centro pagina, eccellenze d'Abruzzo, cambio al vertice, al vertice in questo caso del Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara che ha un nuovo presidente, si tratta di Maurizio Di Nicola che vedete nella foto con il direttore L'Affonso Patriacca e con il presidente uscente Enzo Fimiani, allora eravamo presenti con le nostre telecamere ieri al Conservatorio D'Annunzio per questo passaggio di consegna, andiamo a vedere il servizio. Maurizio Di Nicola è il nuovo presidente del Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara, un patrimonio dell'Abruzzo e non solo del Capulogo Adriatico? Assolutamente sì, direi anche nazionale per il lavoro svolto in questi lunghissimi anni che lo separano dalla sua fondazione quando fu intitolato alla madre del Vate, un'attività profigua dal punto di vista artistico senza dubbio, alla quale tenteremo di dare ulteriore lustro alimentando i contatti e le relazioni istituzionali, sfruttando un patrimonio di esperienza che non è specifico per quanto mi riguarda del settore musicale, ma non lo deve essere perché meritoriamente il Conservatorio è diretto dal direttore Alfonso Patriarca e deve essere invece un lavoro di amministrazione attiva rispetto al quale credo che possa mettere in campo una buona esperienza maturata negli anni. Per lei un passaggio dalla politica attiva al mondo della cultura e delle arti, lei era consigliere regionale fino a qualche mese fa con delega ai trasporti tra l'altro? Sì, un passaggio che in realtà è anche un ritornare perché prima dell'esperienza regionale ero stato sindaco di Pescina, presidente del centro studio Ignazio Silone, abbiamo respirato cultura, la nostra è una cittadina molto ricca da questo punto di vista, qui metto a disposizione questa doppia esperienza e assolutamente credo che sia l'ambiente migliore per cimentarsi con la cultura di alto profilo perché qui si fa ricerca, si fa formazione critica degli studenti in ambienti peraltro di rappresentanza edifici storici della città di Pescara, c'è il giusto mix per far bene. Direttore, si guarda al futuro del Conservatorio Luisa D'Annunzio tanti gli obiettivi da raggiungere? Ma certamente, per noi oggi è una giornata importantissima perché dopo varie vicissitudini finalmente il ministro ha nominato il presidente nella figura dell'avvocato di Nicola e lui è stato scelto da una terna presentata dal Consiglio Accademico, terna devo dire importante con dei valori altissimi sia a livello culturale che a livello manageriale. Penso che la figura di Maurizio ci darà, come dire, lustro e importanza. Ci sono tantissimi progetti in atto, domani inizieremo il nostro progetto Beethoven, visto che quest'anno celebriamo 250 anni dalla nascita del compositore tedesco, partiamo domani, c'è un progetto per noi importante e arduo. Eseguiremo tutte le sinfonie di Beethoven e i concerti per pianoforte e orchestra, cosa che non è mai stata fatta da nessun conservatorio. Quindi questa è un'ottima partenza oggi con la presentazione del nuovo presidente e l'inizio delle attività dell'anno accademico. Restiamo a Pescara, parliamo di cronaca, strade pericolose, pedoni a rischio, contromano sul marciapiede, auto in veste nonna e nipotino, accaduto ieri mattina in via Rigopiano. L'automobilista, un 69enne di Dora De Passeri, ha imboccato la strada in divieto da via Ferrari. I sindacati di polizia, vedete in basso, chiedono i vigili urbani, 24 ore su 24 in città. Colli, in arrivo l'autovelox per controllare le strade. Riunione in comune sulla sicurezza dopo gli ultimi incidenti nella zona dei colli. L'assessore Mascia vigile anche di notte per multare chi supera i limiti di velocità. Andiamo avanti, vediamo questa prossima pagina del centro. Siamo alla riunione che si è tenuta in comune, inquinamento dell'aria alle stelle. L'Arta, i comuni intervengano. Il direttore dell'Agenzia per l'Ambiente, Chiavaroli, in commissione, parla dell'emergenza smog. Non siamo ai livelli delle città del nord, ma servono misure concentrate e concertate, soprattutto tra gli enti locali, confinanti. Vediamo anche in basso, Viale Marconi arriva lo stop al progetto, modifica lo studio per salvare i posti auto. Andiamo avanti, cronaca giudiziaria. Davo il Kumadin, mio marito, lo ammetto, ma non per ucciderlo. Per la prima volta parla in aula Daniela Rorusso, arrestata a luglio del 2016. E poi vado a visitare un detenuto e finisce in carcere per droghe, accaduto in via Lago di Capestrano a Pescara. E domani si terrà nella chiesa dello Spirito Santo, vedete il titolo in basso, l'ultimo saluto al carabiniere del Noe, morto sabato scorso. Proseguiamo la ruota panoramica. Siamo a Pescara, se ne va dall'ex cofa dopo quattro anni. Il Comune firma l'atto di revoca. I titolari dell'impianto devono sgomberare l'area sulla riviera entro 60 giorni. Vediamo ancora incontro in municipio. Masci con l'artista Pistoletto. Possibili future collaborazioni. Vediamo poi a centropagina. Addio ad Aldo Lavorato, il professore di regine. E' scomparso il titolare del noto locale, nota pizzeria di Viale Mazzini a Pescara. Siamo a Montesilvano, strade a rischio anche nella cittadina adriatica come nella zona dei colli di Pescara. Telecamere, semafori e strisce in consiglio. Il caso di via Vestina. E poi, movida in via Roma, va chiesto ai residenti cosa pensano. Lo dice girostante il consigliere comunale del Partito Democratico. E poi, sport gratis per i bimbi in difficoltà. Palavolo Montesilvano aderisce all'iniziativa. Vediamo ancora. Imprenditore, siamo nella parte bassa della pagina. Vince la causa con la banca. Il cliente si era visto richiedere 130 mila euro, ma ora lo stesso istituto dovrà risarcirlo. Proseguiamo con la prossima pagina del quotidiano Il Centro. Siamo nell'area metropolitana di Pescara. In alto, la verità sull'incendio in clinica. Il rogo con due morti a Villa Serena. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, chiede all'assessore alla Sanità Verì dov'è la relazione degli esperti. E poi, città Sant'Angelo, tira smog sulla statale. La soluzione del sindaco Perazzetti. E poi ancora Montesilvano, fossi di scolo, lavori quasi finiti. In via Spagna spariscono i pali. Andiamo a vedere la prossima pagina. Francavilla, commercio in crisi. I saldi non danno frutti. Le vendite calano del 50%. Ancora Francavilla, asta di beneficenza. Raccolti fondi per libri ed orti in Burkina Faso. Proseguiamo. Tragedia a penne in Viale San Francesco. Muore al bar davanti agli altri clienti. Nicolino Della Pelle, 64 anni, stroncato da un infarto nella gelateria Giardino. Il ricordo degli amici. E poi, cronaca, scafa, banditi senza armi, rapinano la banca. Ieri mattina la filiare della Banca Popolare di Bari. In corso primo maggio, bottino, 4.500 euro. E poi, popoli, fondi alla caserma della finanza dal Ministero oltre 2 milioni e mezzo per la ristrutturazione e l'adeguamento sismico. Proseguiamo. Andiamo avanti. Lasciamo le pagine di Pescara e Provincia. Siamo a Chieti. La corsa sindaco nel centro-destra. Di Stefano, candidato della Lega, pronto alle primarie. Se Berlusconi le chiederà a Salvini scontro sulla proposta di Forza Italia, il candidato della Lega non mi tiro indietro. Andiamo a vedere poi in basso, ancora politica. Buracchio tratta con l'assessore De Matteo. Forza Italia potrebbe perdere un altro elemento di spicco. Udici pronto a nuovi ingressi dopo Costantini. Vediamo un'altra pagina sempre del quotidiano Il Centro. Siamo ancora a Chieti. Giro di cittadinanze false. 8 indagati, blitz nei municipi e sequestri della Guardia di Finanza. E poi cronaca giudiziaria. Ubriaco alla guida ucciso il cuoco. 4 anni per un giovane marocchino. E poi ancora malati di gioco. La cura è di sera aperte dalle 18 le sedi del SER di Chieti, Lanciano e Vasto. Proseguiamo. Siamo alla pagina di Teramo. Ricostruzione e la protesta a Roma. I sindaci ieri erano pronti a riconsegnare le fasce. C'è stata questa protesta dei 138 primi cittadini del cratere, di cui 23 abruzzesi, che hanno chiesto subito il commissario. E poi misure straordinarie. Vedete nella foto proprio i sindaci abruzzesi ieri a Roma. Conte poi ha detto ai governatori, mi serve tempo. Il premier ha incontrato i presidenti delle regioni colpite dalla sisma. Sulla nomina è necessario un confronto politico, ma i primi cittadini sono decisi ad andare avanti nella protesta. Ieri c'è stato questo incontro a Roma. Ma eravamo presenti con le nostre telecamere, con Tania Bonici-Castelli. Allora possiamo andare a vedere il servizio. Si è tenuta a Roma un'assemblea alla quale hanno partecipato oltre 100 sindaci del cratere sismico del centro Italia. Sono 23 i primi cittadini del cratere abruzzese che si sono ritrovati nell'auditorium romano Pio Sodalizio dei Piceni per discutere su come accelerare il completamento delle ricostruzioni in corso. L'assemblea è stata presieduta dai vertici nazionali dell'Anci e da questo incontro scaturirà un documento da inviare al governo. I veri nodi, i veri punti di svolta della ricostruzione non sono stati inseriti nel decreto. Ecco perché oggi siamo qui in veste istituzionale, pronti a fare, ormai non parlerei neanche più di ultimo appello, perché abbiamo già parlato diverse volte di ultimo appello. Siamo al confine istituzionale della discussione e con il Presidente Anci nazionale è molto importante la presenza del Presidente De Caro perché deve diventare questo un tema centrale non solo dell'Anci ma un tema centrale di governo. Se non dovessero risponderci neppure ora, dopo questa iniziativa importante, compatta, la protesta andrà sulla piazza. Oggi è stata l'occasione nella quale tutti quanti insieme abbiamo ribadito questa delusione nei confronti dell'azione di governo condotta non soltanto dall'ultimo governo ma da tutti i governi che si sono avvicendati nella gestione della vicenda. All'Assemblea dei Comuni del Cratere Sisma del Centro Italia è intervenuto anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Vito Crimi, che per alcuni mesi ha avuto la delega alla ricostruzione. L'invito che faccio a tutti i cittadini è quello di fare le domande di ricostruzione. presentate i progetti perché sulla base di quelli poi gli uffici potranno commisurare il loro lavoro. Sento tanto spesso parlare di carenza del personale negli uffici speciali della ricostruzione. Il problema è che non hanno neanche le domande a sufficienza quindi anche lì bisogna incentivare questo passaggio. Intanto sembra scontata la sostituzione del commissario alla ricostruzione Piero Farabollini, il cui mandato è scaduto il 31 dicembre. Con lui non si sono avuti grandi risultati. Tra i nomi candidati a sostituirlo si fa il nome del consigliere regionale Giovanni Legnini, già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. C'è un profilo di persona di qualità il cui nome è stato fatto proprio anche da molti amministratori. Sicuramente io lo considero il nome giusto al posto giusto che è quello di Giovanni Legnini. Profilo tecnico ma anche politico, quello che ci serve in questo momento. Mi auguro che il governo faccia subito questa nomina. Cambiamo argomento, parliamo di sanità, però restiamo a Teramo. Asl sono in arrivo, vedete il titolo, più di 100 assunzioni, tanti concorsi che si concluderanno entro l'estate. Quattro banditi a breve in comune con Chieti e l'Aquila per 200 posti. Pineto, primi lavori per i danni delle mareggiate. La regione ha stanziato 400 mila euro. Ancora Pineto, domenica prossima torna alla fiera di Sant'Agnese nel centro in provincia di Teramo, Atri. Ricostituita l'assemblea dell'Asp2, a fine mese sarà nominato un nuovo presidente al posto di Prosperi. E poi Roseto, traffico di auto dall'estero con un'azienda fantasma. Vediamo poi in basso Silvi, contributi per i libri scolastici. Domande entro il 10 aprile. Siamo all'Aquila, la svolta in giunta comunale. Rientra la crisi, Biondi risolve la crisi, nessun rimpasto. Gli assessori restano al loro posto. Vediamo poi in basso. Crollo con vittime, niente colpevoli. La Cassazione respinge ricorsi delle parti civili per i due morti in via Persichetti. Sant'Antonio si accendono le cutore a Colle Longo. Stasera sfilate torcioni in musica per il protettore degli animali. Tanti eventi anche nella Marsica. E criminalità, proprio nella Marsica, spacciavano soldi falsi. Nei guai i carabinieri hanno denunciato due siciliani di 21 e 25 anni. E poi Avezzano minaccia la ex con un coltello arrestato. Infine, Leviero salva il padrone da un altro cane sul Mona. Brutta avventura per un ingegnere aggredito da un pastore tedesco. Siamo giunti alle pagine dello sport del centro, ma dobbiamo fermarci per qualche istante. Tra poco, tra pochissimo, torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Di nuovo in studio, seconda parte di Mattino 6. Siamo alle pagine interne dell'inserto Abruzzo del quotidiano Il Messaggero. Vedete il titolo di pagina 2. A 14 carte sul tavolo del GIP stop al blocco del Cerrano. In procura alla reazione di autostrade su cui è dato il via libera il Ministero. Ma notizia dell'ultima ora, ne parlavamo prima, c'è stato il no della magistratura irpina. Zess passa l'emendamento abruzzese sui commissari. Poi in basso si parla di neve, neve che non c'è in questo strano inverno con un'alta pressione che ormai dura da quasi un mese. Neve non c'è, ma le strade sono sbarrate, strade per i rifugi. Tolto il divieto per lago Racollo. Andiamo avanti, cronaca di Pescara, ma l'ora in auto. In veste nonna e bimbo, accaduto ieri a Pescara in via Rigopiano. E poi giro di vite nella zona dei colli, controlli con il Telelareser in via di sotto. E poi code su Statale A14 e allerta smog. Ne abbiamo parlato anche prima. Vediamo anche la cronaca. E' lui l'uomo che ci ha aggredito, riconosciuto dalle vittime in un confronto all'americana Giuseppe Melluso. Comparirà davanti al GUP il 4 febbraio. E poi la tragedia di sabato scorso in via Venezia con la morte del maresciallo del Noe. Domani si terranno i funerali. Poi parliamo anche di scuola e sanità. L'ILT e studenti contro i tumori. Vedete nella foto piccola il presidente della LILT, il professor Lombardo. Nuova Pescara da abrogare. Di Lorito, il sindaco di Spoltore, prepara il ricorso. L'iniziativa sarà illustrata sabato. E poi di Nicola al vertice del Conservatorio d'Abruzzo, del Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara. Abbiamo visto prima anche il servizio. Odontoiatria per pazienti con disabilità. L'ASL riapre le prenotazioni da febbraio. Vi avevamo proposto ieri anche un servizio su questa iniziativa dell'ASL di Pescara. Cronaca giudiziaria, Lady Kumadin, non volevo uccidere. Comparsa in tribunale, Daniela Lorusso ha ammesso di aver somministrato il farmaco al marito di nascosto. E poi Scafa, banditi in fuga con un bottino di 4.500 euro. E poi il Cogestre festeggia i primi 40 anni. Il Presidente Di Fabrizio apre a ridiesce il convegno sulla tutela dell'ambiente con visite al CEA questa mattina a Penne. Proseguiamo con la pagina dell'Aquila del Messaggero. La cronaca politica in primo piano, la cronaca politica aquilana, per meglio dire, perché anche la Lega firma la tregua. 20 punti per la seconda fase, il documento mette tutti d'accordo in maggioranza all'Aquila. Graduatoria unica per i docenti, rischio ricorsi. E poi Accord, a maggio l'udienza preliminare. Infine, la tragica battuta di caccia dei giorni scorsi che ha portato alla morte drammatica di Luca Pulsoni, 29enne maresciallo della Guardia di Finanza, morto nelle campagne di Vibo Valencia. Oggi si terranno i funerali. Proseguiamo con l'altra pagina del quotidiano Il Messaggero. Si parla di mobilità, fioriscono le ciclo pedonali anche all'Aquila. L'amministrazione chiude il percorso preparatorio del piano, ipotizzati, tracciati per bici e pedoni. E poi povertà educativa, dalla memoria un patto di rigenerazione sociale. Vediamo poi nella parte bassa della pagina le altre notizie, gli altri titoli degli articoli che vedete inquadrati. Un convegno alla BPR su maldicenza e vino all'Aquila. E poi la traviata, domani spettacolo con cena, sempre nel capologo regionale. E poi Aquilani nel mondo, il sogno americano diventato realtà del grande drammaturgo Mario Fratti. Proseguiamo, pagina della Marsica e dell'area Peligna. Partiamo da Vezzano, minaccia la ex con un coltello preso. E poi sul Mona due autobus nuovi ancora senza targa e anche oggi tante corse cancellate. Andiamo più in basso, Celano, pagano con banconote false, due persone in manette. Poi Avezzano, blitz in ospedale della delegazione del Partito Democratico. Pronto soccorso, freddo e caotico. Siamo a Chieti, rivoluzione in ospedale. Arriva il laboratorio unico, insieme anatomia patologica, analisi e trasfusionale. Meno costi per l'utenza Shoel, il manager dell'ASL di Chieti. Dice, la decisione entro fine mese, in mille superano la preselezione per infermieri. Incidente mortale in galleria, quattro anni all'automobilista ubriaco. E poi andiamo nella parte bassa della pagina, perché oggi a Fara Figliorum Petri, in provincia di Echieti, ci sarà l'evento delle Farchie. Proseguiamo, vediamo la pagina di Lanciano Vastortona. Partiamo da Lanciano, perseguita il suo ex, rischia il processo, chiusa l'indagine, accuse di stalking, diffamazioni e lesioni. Ancora Lanciano, il sindaco Pupillo, scatta l'allarme, dice il primo cittadino, sul futuro dell'ospedale. Poi cronaca, gambe incastrate nella motozappa, grave 53enne, trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Chieti. Ortona, nuova struttura organizzativa al comune della cittadina in provincia di Chieti. Vediamo anche la pagina di Teramo del quotidiano Il Messaggero. Il comune punta sul sociale, la città attira nuovi residenti. E poi anziana donò 900 mila euro, dentista nei guai. Vediamo poi in basso, Teramo Ambiente, i sindacati licenziare meno compensi ai politici. Di Buonaventura nella bufera per le dichiarazioni su personale e possibili esuberi tra i 200 dipendenti. Siamo alla pagina di Giulianova e della Val Vibrata e di Roseto degli Abruzzi, sempre del Messaggero. Partiamo da Giulianova, Stricioni e Guerra al Daspo Urbano, la città tappezzata di manifesti contro l'iniziativa del sindaco Costantini. Martinsicuro, caso della Fonderia Veco, incertezza sul futuro. E poi ancora Val Vibrata, Corropoli, perseguita la ex ed evade. Dai domiciliari in basso, ancora Giulianova, lavori alla foce del Tordino Comune. In ritardo, maxitraffico di auto rubate, scoperto garage fantasma. Siamo a Roseto degli Abruzzi. Siamo arrivati invece in questo caso allo sport. Allora, dopo aver visto le pagine del centro e del Messaggero, chiudiamo con il quotidiano La Città. Ripartiamo da pagina 2, dalla cronaca regionale. Cinque priorità ambientali per l'Abruzzo, acquifero del Gran Sasso, infrastrutture, rifiuti, bussi e ricostruzione. Nel dossier presentato ieri da Lega Ambiente, Pescara, macchina, finisce fuoristrada e travolge un passeggino, feriti in maniera fortunatamente non grave, nonna e nipotino. E poi, territorio, arrivano altri fondi contro il dissesto idrogeologico nella nostra regione. Siamo a Teramo, d'Alberto obbligato all'allargamento, lettera appello piena di intenti del primo cittadino con l'invito rivolto a Cavallari e di Dalmazio ad entrare in maggioranza. Vediamo nella parte bassa della pagina, ci sono dei movimenti in comune, intanto Emiliano Carginari è sempre più vicino a Erenziani. La mossa di Maurizio Verna di offrirsi al PD pare non sia piaciuta affatto ad Italia Viva. Ricostruzione, subito il commissario, scenderemo in piazza. I sindaci del Lanci riuniti in assemblea a Roma, abbiamo visto prima il servizio della nostra Tania Bonnici Castelli. Acquifero del Gran Sasso, Berardini chiede una sede per il commissario Gisonni. Proseguiamo, ospedale, 94 milioni lasciati in sospeso. Il capogruppo regionale del PD, Paolucci, attacca la regione sulla mancata programmazione della spesa per gli ospedali. Siamo a pagina 7, istituto zooprofilattico caporale. L'ordine veterinari contesta la regione. Per i quattro presidenti abruzzesi è stato varato un bando pubblico che la selezione poi non ha rispettato. La tifoseria del Teramo in lutto per l'ultimo saluto e la scomparsa di Peppe Cannone, morto a Genova a 73 anni. Andiamo avanti, pagina 8. Parliamo di formazione. L'Agrario Rozzi apre la cantina ed il Frantoio, l'istituto agrario di Piano Daccio, potenziato con una nuova struttura d'eccellenza a sostegno della didattica. Vedete le foto in questa pagina del quotidiano La Città. Noi andiamo avanti, parliamo della Teramo Ambiente, demagogia sulla Team, compensi sindacati irritati dall'assessore di Bonaventura. E poi vedete, Naselli si difende davanti al Tribunale del Riesame nell'inchiesta che è partita nei giorni scorsi. Pastorizia, pezzo pane di Chiara Guerra alla mafia, dei Pascoli, l'onorevole Abruzzese presenta un'interrogazione parlamentare sul fenomeno che riguarda anche le nostre montagne. Castelcastagna, 600 mila euro di fondi ministeriali per il dissesto idrogeologico. In basso, approvato dalla comunità del parco il parere sul bilancio, solamente tre astenuti per l'approvazione del rendiconto. Navarra, il presidente del parco, passaggio fondamentale, dice per il buon funzionamento. Andiamo a vedere pagina 11 del quotidiano La Città. Passiamo, in questo caso, alla pagina della Val Vibrata. Lo studente stalker evade dai domiciliari, nuovi guai per il 23enne di Corropoli che ha perseguitato la ex fidanzata. E poi Nereto, un ufficio della Ruzzoreti, anche a Nereto, la proposta del Movimento 5 Stelle alba adriatica. Difficoltà nella distribuzione dei sacchetti e lunghe attese allo sportello. Il Movimento 5 Stelle critica i disservizi del Poliservice in basso Corropoli. Il premio d'Annuntis diventa internazionale. Prorogati al 29 febbraio i termini per partecipare al concorso di poesia. Pagina di Giulianova e Mosciano, sempre dal quotidiano La Città. Siamo a Giulianova, mercato coperto abbattuto entro l'anno. L'annuncio del sindaco Costantini per riqualificare Piazza dalla Chiesa. Vediamo poi quest'articolo di SPAL al Cursal di Giulianova, il mental coach di Jessica Rossi e Roberto Mancini, ospite a Giulianova. Vediamo in basso, sempre nella città giuliese, iniziati i tanto attesi lavori all'incrocio pericoloso. E intanto ci sono nuovi asfalti tra Via Mendola, Via del Popolo, Via del Campetto e Via Acquaviva. Proseguiamo, pagina dell'area costiera del Terramano, ancora disagi in attesa della magistratura. Parliamo del caos in A14, ma come detto ci sarebbe il no della magistratura ilpina alla riapertura dei viadotti dell'A14 ai mezzi pesanti. E poi Rossetto degli Abruzzi, mega truffa con la concessionaria Fantasma, comprava un'auto all'estero e le rivendevano in nero in Italia con una ditta sconosciuta al fisco. Rossetto degli Abruzzi, la mostra dei vini di Montepagano, ottiene il marchio sagra di qualità. In basso ad Atri, nominati rappresentanti dell'Assemblea dell'ASP2 dopo la ricostituzione arrivata attraverso la delibera della giunta regionale. La cultura, quel caro pensiero che scruta nei giorni, liberaci dalla fame nelle poesie con cui Renato Minore ha vinto il premio Viareggio, una lettura lucida della nostra epoca. Renato Minore, storico giornalista che è nato a Acchieti, storico giornalista davvero di grande e prestigio, conosciuto in tutta Italia proprio per i tanti articoli pubblicati su vari quotidiani italiani. Siamo arrivati alla pagina sportiva nell'ultima parte di questo appuntamento di giovedì 16 gennaio con Mattino 6. Partiamo dai quotidiani sportivi nazionali, stoppati, mercato, Inter-Roma che scontro, clamoroso, salta lo scambio, Politano-Spinazzola, punto di domanda, ma ci sono dei problemi per chiudere questa trattativa. E poi la Coppa Italia, Milan-Pioli senza ibra, ritrova il pistolero, ovvero Piontek, Milan che batte la spalla per 3-0 nella gara di ieri di Coppa Italia e in Coppa Italia passa anche la Fiorentina in 10 contro l'Atalanta, battuta per 1-0. E poi vedete Ericsson, ci siamo, ausilio a Londra per chiudere per il giocatore ritenuto fondamentale per la formazione giallorossa e Young torna di moda. Vediamo anche il Corriere dello Sport, Ericsson sì all'Inter, ausilio a Londra ottiene la disponibilità del danese, dunque parliamo dell'Inter non della Roma come avevo erroneamente detto. E poi Tiki Tango, Higuain e Di Bala, numeri da circo, Juve ai quarti di finale di Coppa Italia, 4-0. All'Udinese vittoria agevole per la formazione di Maurizio Sarri e poi Fiorentina, Cutrone Boom, battuta all'Atalanta 2-1 e poi il risveglio del pistolero di Piontek in gol nella gara vinta dai rossoneri per 3-0 a San Siro con la SPAL. Chiudiamo con tutto sport, PlayStation Juve, 4-0 all'Udinese, vai Milan, riecco Piontek gol. Adesso c'è il Torino, Grana-Laxalt, ora Mazzarri può perdere il Milan, ha intenzione di venderlo in Spagna. Andiamo a vedere lo sport regionale, partiamo dal quotidiano Il Centro, vedete la prima pagina che però riguarda le Coppa Italia, i risultati di ieri, Juventus-Udinese 4-0, Milan-SPAL 3-0, Fiorentina-Atalanta 2-1, tre vittorie su tre per le formazioni che hanno giocato in casa. Questa sera toccherà al Parma, al Tardini alle 21.15 contro la Roma. A Firenze Gasperini si ribella agli insulti, ieri c'è stata la gara tra Fiorentina ed Atalanta, ci sono stati gli insulti, da come leggiamo in questo articolo, dei tifosi viola all'indirizzo della madre del tecnico della formazione bergamasca. Siamo alla pagina del calcio di Serie B e dunque del Pescara. Pescara punta su Asensio, Melchiorri pista in salita, il trapalino libera Pettinari, il Delfino torna con decisione sull'attaccante del Pisa, il Perugia vuole mezzo milione per Melchiorri e Entella Brunori. Oggi si può chiudere. Vediamo poi in basso, Macin senza playoff stagione negativa, ha parlato ieri il centrocampista del Pescara nel corso di un evento organizzato dalla società Bianca Azzurra, il cambio di ruolo ha inciso sul mio rendimento, la SPAL no, io resto qui. Oggi vi proporremo nel corso dei nostri TG l'intervista con l'attaccante del Pescara, Macin, per il momento possiamo andare a vedere il servizio di Andrea Costantini che fa il punto della situazione in Casa Pescara proprio alla luce delle ultime trattative di mercato, mercato che chiuderà il 31 gennaio. Vediamo. Stefano Pettinari, Federico Melchiorri e Raul Asensio sembra restringersi il raggio d'azione degli uomini mercato Bianca Azzurri alla ricerca del centramanti da consegnare a Luciano Zauri per la seconda parte della stagione. Sempre più difficile battere la pista degli attaccanti dell'Empoli con Lagumina finito nell'orbita della Sampdoria in Serie A e Moreo per il quale il club di corsi sta declinando tutte le offerte, un po' per avere una risorsa in più, un po' per non rafforzare potenziali avversarie nella corsa ai play-off, il Pescara una di queste. Lo scenario potrebbe cambiare a fine mercato, specie se il calciatore dovesse insistere per una cessione. Raul Asensio, attaccante spagnolo di proprietà del Genoa, è tornato da alcuni giorni nei radar del presidente Sebastiani dei direttori Repetto e Bocchetti, il giocatore ha avuto problemi a Pisa dove ha giocato pochissimo ed ora è prossimo all'addio, dopo l'arrivo in Toscana di Luca Vido. Su Asensio però c'è il pressing forte del Cosenza che sembra in vantaggio su tutti. Pettinari e Melchiori sono ex e per loro si tratterebbe di un ritorno. Per caratteristiche, come confermato dal presidente Sebastiani, Pettinari risponde perfettamente all'identikit tracciato per il profilo da inserire in organico. Bisogna fare i conti col Trapani che non vuole privarsi del suo miglior marcatore in campionato e che a fine stagione ha anche l'opzione per il riscatto del giocatore, ora di proprietà del Lecce. Melchiori ieri è stato impiegato per circa mezz'ora dal neotecnico Cersei Cosmi nella gara di Coppa Italia che il Perugia ha perso a Napoli. È da anni un pallino di Giorgio Repetto, ma è difficile ipotizzarne una partenza se prima la società Umbra non prenderà un rinforzo anche la luce della squalifica di Iemmello per due turni di campionato. Da Pisa poi ieri era rimbalzata la voce di un interessamento del delfino per l'esterno sinistro Francesco Lisi, smentita dalla dirigenza Biancazzurra. Casella già occupata da Del Grosso, Masciangelo e all'occorrenza Crecco. Anche se quest'ultimo potrebbe andare incontro ad una cessione in prestito al Pordenone visto il poco spazio trovato nel girone d'andata anche in virtù di un infortunio. Sempre in uscita definita la cessione, a titolo temporaneo, del terzino Davide Vitturini che torna in Serie C, girone B tra le fila della Feralpi Salò. In stand-by la posizione di Matteo Brunori, la Juventus Under-23, resta una soluzione importante ma sull'ex Arezzo resta vigile anche il Siena. Si complica anche la pista Matteo Gabbia, il difensore classe 99 in uscita dal Milan. Interessa il Pescara ma su di lui ci sono anche Chievo, Crotone e soprattutto il Benevento. I Sanniti sono molto vicini all'ingaggio. Questo è il servizio di Andrea Costantini, il punto sul mercato del Pescara. Parliamo ancora del Pescara dalle pagine dello Sport del Messaggero. Vedete caccia a Raola Senso, delfino in pressing sul 21enne spagnolo e poi Macine. Stavolta con la Salernitana sarà diversa. Vediamo poi in basso eccellenza e promozione. Ieri le gare del turno infrasettimanale di campionato, Lanciano e Castelnuovo superlanciati, L'Aquila sbanca Roseto, doppio maisto. Vediamo la prossima pagina del Messaggero. Teramo chiude con Fiore, fissato oggi un incontro con il procuratore del Terzino per trovare l'accordo definitivo. Teramo che domenica giocherà con Lavellino. Parliamo anche di volley, Coppa Italia si è cortona KO, il sogno infranto. Brescia si impone con un netto 3-0 sugli abruzzesi. Parziali 20-25, 24-26, 20-25, prima sconfitta interna della stagione, sconfitta casalinga per la formazione ortonese. Poi vedete la mezza pagina, come sempre ogni giovedì, che il Messaggero dedica al calcio WISP provinciale di Pescara. Torniamo al quotidiano Il Centro per vedere la pagina che riguarda il calcio di serie C e serie D. Il Teramo, Tedino ora vuole il terzino Belga Fiore, il club stringe per il calciatore. Vediamo poi in basso la serie D, parla il presidente della vastese Franco Bolami, che dice adesso basta regalare punti Biancorossi verso la trasferta di Fiuggi con tante assenze. Notaresco, due giornate di stop a Sansovini dopo l'espulsione nella gara con il campo basso. Vediamo le pagine relative al campionato di eccellenza e promozione con il turno infrasettimanale di ieri. Vola la capolista Castelnuovo, terzo 4-0 di fila per la squadra allenata da Di Fabio, che ha battuto questa volta il capistrello con un poker di gol. Vediamo le altre gare, Acqua e Sapone, Alba Adriatica 1-1, Bagigalupo, Vasto, Sambuceto 0-0, Nereto, Angolana 1-0 e poi le altre partite, Angizia, Luco, Lanciano 0-2, dunque Frentani che restano comunque e blindano il secondo posto, Penne, Delfino, Flacco, Porto 3-1, Nero Stellati, Prato, La Torrese 0-1, Ponte Vomano, Spoltore 1-1, Paterno, Virtus, Cupello 1-0. Andiamo a vedere la promozione Girone A con l'Aquila che è letale, anche la Rosetana deve arrendersi, Rosso Blu che passano a Roseto degli Abruzzi per 3-1. Le altre partite torna in parte Montorio 0-1, Mutignano Fontanelle 3-0, New Club Villa Mattoni, Nuova Sant'Egidiese 1-1, Mociano Celano 1-1, Piano della Lente Morodoro 2-3, Realatria Miano 1-0, San Gregorio Pucetta 3-2, Pizzoli Amiternina 0-0, Girone B, Aquino Gol, Festa Ovidiana, Fossacesia Ribaltato e dunque Ovidiana, Fossacesia 2-1, Atletic Lanciano Casalbordino 1-6, Elicese Raiano 0-0, Virtus Ortona 0-3, il derby vinto dall'Ortona sulla Virtus e poi Casolana Scafa Passo Cordone 0-0, Fata Rangelini Pescara Villa 2015 0-3, San Salvo Silvi 2-0, San Giovanni Tiatino Valdisangro 2-3, Bucchianico Miglianico 0-3. Vediamo quest'altra pagina del quotidiano il centro che riguarda lo sport, eccola qui il voli abbiamo visto prima con il Brescia che è passato sul parquet degli ortonesi per 3-0, saluta la Coppa, la formazione dell'Impavido Ortona, basket di serie B, Pedersini, nuovo acquisto del Chieti e poi turno infrasettimanale di basket di serie A2, Roseto Fermo, poker Montegranaro, rinviata la gara degli Sharks che avrebbero dovuto giocare a Sansevero, stata rinviata al 29 gennaio. nuoto giovanile e brilla l'universo Silvi al Propacup, pioggia di medaglie per i bambini nati dal 2011 al 2014. Chiudiamo con lo sport del quotidiano La Città, ecco qui la pagina relativa al Teramo, Diavolo e Fiore l'ultima idea per la fascia, fare i puntati sul Belga 25enne. Poi in basso, post Roseto Verona, parla il presidente degli Sharks Norante, solidarietà a coach d'Arcangeli, parliamo ovviamente del Roseto della serie A2 maschile di Pallacanestro. Siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6, grazie a Claudio Di Giacomo per la regia, grazie a voi come sempre per la cortese attenzione, l'appuntamento con Mattino 6 è domani alle 8, vi ricordo alle 14, la prima edizione del nostro telegiornale. Buona giornata. Grazie a tutti.